Eccoci pronti amici alla rassegna stampa di Fano TV, buona giornata, oggi è mercoledì 13 marzo 2024, come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere prima il santo che si festeggia oggi, poi le previsioni del tempo e quindi la lettura dei giornali. Ebbene se anche Don Rodrigo dei Promessi Sposi avesse avuto un santo potrebbe avere festeggiato proprio Rodrigo di Cordova, Rodrigo di Cordova che visse nell'ottavo secolo, visse in Spagna durante la dominazione araba, in un tempo in cui all'interno della stessa famiglia poteva accadere che un elemento fosse cristiano, quell'altro fosse musulmano e questo ovviamente creava dei dissapori se non delle violenze e proprio Rodrigo che era sacerdote, si era fatto prete, fu denunciato dal fratello che era musulmano, quale appunto praticante della religione cattolica, ma non era questo il suo reato, il suo reato era quello che prima è stato diffamato essere musulmano e poi ancora cattolico e quindi ancora cristiano e perciò un rinnegato, per questo Rodrigo fu imprigionato e fu condannato a morte, fu decapitato nell'anno 837, questo è Don Rodrigo di Cordova. Vediamo ora le previsioni del tempo. Il tempo è migliorato sensibilmente rispetto allo scorso fine settimana, tempo stabile con cielo da poco e in regolarmente nuvoloso, massime sui valori miti comprese tra i 15 e i 18 gradi, la minima è di 7 gradi, i venti sulle coste espireranno da nord-est all'interno da ovest sud-ovest, il mare è leggermente mosso, il sole è sorto alle 6.23 e tramonterà alle 18.10. Con queste previsioni del tempo, quindi abbiamo una buona giornata, passiamo ora alla lettura dei giornali. Apriamo oggi il resto del Carlino con l'articolo di apertura che riguarda il trasporto scolastico. Scolabus, la protesta CGL paghi in ritardo autisti da tutelare. Non è la prima volta che gli autisti degli scolabus rimangono senza stipendio oppure vengono pagati in ritardo. Così è accaduto anche questa volta. C'è stata una denuncia del sindacato a cui si sono rivolti gli autisti, che non avevano percepito il 27 febbraio scorso lo stipendio dovuto, si sono rivolti alla filta CGL, la quale si è rivolta a suo tempo al Comune perché anticipasse i soldi dovuti dall'impresa, così come prevede appunto l'accordo che era stato stipulato. E proprio ieri, mi sembra, hanno ricevuto gli stipendi dovuti. Anzi no, lunedì 11 marzo sono stati pagati e quindi al momento una toppa è stata posta. Comunque il problema rimane, questi dipendenti di una ditta che è la ditta Scoppio dovrebbero essere pagati puntualmente, il che non avviene sempre e quindi è una cosa da sistemare perché poi se si ripete la cosa diventa problematica. Il servizio di autotrasporto è uno dei servizi più importanti del nostro territorio in quanto coinvolge moltissime famiglie e soprattutto coinvolge i bambini che vanno a scuola. Un articolo a fondo pagina del resto del Carlino fa un po' una panoramica per quanto riguarda l'atteggiamento dei progressisti all'interno del centro-sinistra-sinistra. Perché questo campo largo a Fano non si riesce a costituire? Ebbene c'è una dichiarazione di Teodosio Auspici che interviene per quanto riguarda la nomina, la scelta del candidato sindaco. Si era parlato addirittura di Francesca Puglisi, ex parlamentare ed ex sottosegretaria DEM, a tenere uniti il centro-sinistra e i progressisti. Cosa però che non è avvenuta. c'è anche una cosa controversa, c'è chi dice che non si era mai parlato della Puglisi, c'è che qualcuno l'aveva tirata fuori magari informalmente, insomma fatto sta che l'accordo ancora non esiste e questo probabilmente sarà una defiance per quanto riguarda tutte le prospettive che sono ancora tutte in ballo ovviamente per la prossima elezione amministrativa. una campagna elettorale quindi piuttosto importante ma non è detto fino all'ultimo minuto perché poi un qualcosa che cambia all'improvviso può sempre ravvicinare il centro-sinistra con i progressisti. Ma al momento ci sono candidati sindaco ormai definiti, uno è quello di Stefano Marcheggiani che rappresenta un po' tutta la coalizione che fa riferimento al partito socialista, a Ribella, a Movimento 5 Stelle e via dicendo, quell'altro invece che ancora deve disputare le primarie con i quattro candidati sindaco della coalizione che al momento guida il comune di Fano. Vediamo invece quest'altro articolo, quest'altro articolo che riguarda la vicenda personale di un cittadino. Va in Perù a ritrovare i resti del padre. Si tratta di un aviatore, si chiamava Liviero Antonelli ed era di Fano. Morì nel 1953 mentre volava con il suo aereo. Il figlio Lucio al tempo aveva cinque anni, da allora ovviamente non ha saputo più nulla del padre, ma ora il 9 marzo 1953 è caduta appunto questa tragedia e lui, il figlio, a 70 anni dopo è andato in Perù a ritrovare la tomba del padre e l'ha trovata. Ovviamente una grande emozione per un padre ritrovato, seppure deceduto, però insomma un viaggio non semplice per poi ritrovare con tutte le traversie, con gli incartamenti, con poche indicazioni per ritrovare la tomba, la memoria e quindi un aspetto sentimentale molto molto sentito, molto forte. C'è chi riposa all'ombra dei cipressi, ha detto Angelini, mio padre invece alle falde di una grande duna di sabbia. A 70 anni esatti, dalla sua tragica morte, sono finalmente riuscito a far visita al mio babbo giovinetto caduto con il suo aereo a Ica in Perù all'età di 32 anni. 32 anni, si è ancora giovani e quindi specialmente se si ha un bambino di 5 anni. La cosa veramente è emozionante ed è emozionante anche leggere questo articolo. A fondo pagina vediamo l'assessora Cora Fattori che evidenzia il successo del Festival Circonomia. Il futuro è passato per Fano, intitola Il resto del Carlino. Centinaia di persone hanno affollato i vari appuntamenti sul palcoscenico del Teatro della Fortuna. Secondo l'assessora Fattori ci sono stati numeri veramente che parlano di un grande successo. Cinque giorni di Festival, 34 eventi, oltre 100 relatori tra giornalisti, esperti di ambiente, rappresentanti di associazioni, di imprese e membri delle istituzioni. 50 partner coinvolti tra aziende, sponsor, associazioni culturali, imprese social, università, fondazioni e banche. Questo è un apparato veramente considerevole. Secondo l'assessora questa è una iniziativa da ripetere il prossimo anno e vedremo chi sarà però alla guida della città di Fano. Vediamo ancora altre notizie. Si parla di una notizia di cronaca che riprende addirittura un'apertura della pagina 16 del resto del Carlino. La guardia di finanza ha scovato un ristoratore sconosciuto completamente al fisco e aveva anche quattro persone che lavoravano in nero. La finanza ha scoperto un locale nella zona mare a Fano che ha deciso dall'anno prima del Covid di schivare il fisco. Ora vuole sanare e vuole ovviamente rimettersi in pari pagando quello che non ha pagato prima. Si tratta di un ristoratore di 58 anni della zona mare di cui non è stato fatto il nome. Però insomma tutto quanto, questo è un comunicato che è stato rilasciato dalla Guardia di Finanza ma il nome è stato ottenuto in segreto. A Pensalo però è stata sequestrata la droga con relative denunce. Verifiche su 454 persone. Su questo articolo vediamo anche che la Guardia di Finanza ha svolto un controllo a tappeto su tutta la zona. Le attività di accertamento sono state eseguite nelle principali strade del litorale, parchi pubblici, nei pressi delle stazioni ferroviarie nonché in alcuni locali dove si concentra in modo particolare la Movida. Ebbene sono stati identificati 454 persone, controllati 298 veicoli, elevate 15 violazioni al codice della strada e identificate 4 persone che guidavano auto di lusso senza avere una capacità reddituale adeguata. E si indaga anche questo. Tu hai una, non dico una Ferrari, però insomma un'auto molto molto costosa, allora andiamo a vedere quanto guadagni, qual è il tuo reddito, se ti puoi permettere questa macchina, altrimenti c'è qualcosa che non va. E appunto i finanzieri indagano. E qua vediamo una notizia che riguarda Fano, riguarda Fano imprenditoriale. Assolti i fratelli Lungarini dall'accusa di bancarotta, elennesimo processo per il crack. La difesa ha dimostrato che i crediti evidenziati erano reali e non gonfiati. Ebbene sono stati assolti dall'accusa. E' stata una notizia che ha creato sensazione quando è emersa sui giornali che i due fratelli Lungarini, si tratta di Francesco e Paolo Lungarini di Fano, erano stati accusati di bancarotta. Ebbene sono stati riconosciuti innocenti, dobbiamo dirlo con grande evidenza, rispetto a quanto prima con evidenza era stata data notizia del crack. Ebbene il Tribunale di Pesaro ha infatti emesso ieri una sentenza di non luogo a procedere in fase predibattimentale disponendo il prascioglimento degli imputati dall'accusa di avere distratto danaro dalla loro società. Questa è solo l'ultima sentenza che li vede andare assolti. Quindi veramente due imprenditori che sono riusciti a dimostrare la loro correttezza per quanto riguarda le loro imprese. Dobbiamo dire che l'impresa Lungarini aveva lavorato non solo a Fano, ma aveva lavorato anche in tutta la nazione ed era appunto una impresa che sapeva fare il suo lavoro dal punto di vista tecnico e dal punto di vista formale. Passiamo alle altre notizie. Passiamo a San Lorenzo in campo dove arriva la stagione lirica al Teatro Tiberini. Ecco qua tutte le novità. Gli ideatori sono il tenore maestro Andrea Colafemmina e il cantante lirico e compositore Matteo Sartini. Inizierà la stagione il 28 aprile. Si tratta della prima rappresentazione voluta da me mia opera e da prima d'opera. Dunque due associazioni in collaborazione con il Comune e la Proloco. La stagione sarà presentata ufficialmente il 13 del mese prossimo. Appunto sono questi i due ideatori che vediamo qui nella fotografia. E poi Fabiana Giovannotti premiata è la pergolese dell'anno 2024. La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà domenica prossima alle 16 al Teatro Angel dal Fuoco. Si tratta di una signora impegnata fortemente nel sociale e quindi un riconoscimento dovuto per la sua abnegazione in favore appunto di chi ha bisogno. Passiamo ad Urbino. Quattro vie per gli urbinati del Novecento. La Commissione urbanistica ha approvato le dediche ad Antenore Guidi, Morris Catani, Filodelfo Pier Giovanni ed Ercole Borgoggelli Virgili. Sono state approvate le intitolazioni di quattro aree del territorio cittadino ad altrettanti illustri personaggi che gli urbinati ovviamente conoscono bene. E poi invece guardiamo questo bellissimo quadro. Si tratta dell'affresco presente nella parete sinistra della chiesa di Santa Chiara a Urbania. L'opera è storicamente attribuita a Timoteo Viti che rappresenta la Madonna tra il Cardinale Bessarione, i Santi Francesco, Chiara, Ursula e le Vergini. Vedete qui l'imponenza del Cardinale Bessarione. C'è tempo fino al 18 per cliccare sul progetto di recupero dell'opera nella chiesa di Santa Chiara ed è un progetto che è inserito nel Art Bonus, quel sistema che consente agli imprenditori di operare per promuovere la cultura locale, per restaurare opere d'arte, come viene in questo momento, e al contempo detrarre gli importi che usano per effettuare queste cose dalla loro dichiarazione di erediti, quindi hanno un beneficio di carattere fiscale. Domani l'addio al maresciallo Fois, morto in un incidente in Sardegna. Fois era di Sant'Angelo in Vado. La Salma arriverà per il funerale in Paese, sua città d'adozione, il cordoglio dei Vadesi. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino, ma voglio farvi vedere prima di passare al Corriere Adriatico, anche l'articolo di apertura del giornale che riguarda Pesaro e non possiamo non rilevare la grande vittoria di un tennista pesarese che ha sconfitto addirittura il numero uno del mondo, Diakovic. Luca Nardi, ventenne tennista al torneo di Indian Wells, mi tremavano le gambe, ha dichiarato, Diakovic era il suo idolo, aveva il suo poster nella sua camera da letto e mai pensava di poter battere un campione del tennis così come il numero uno, ma l'ha fatto, l'ha fatto ed è stato e si è meravigliato lui stesso. La favola di Nardi, il ventenne tennista al torneo di Indian Wells in Treset ha mandato al tappeto il numero uno al mondo, la sua Pesaro esulta e ne ha tutta la ragione. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico, eccola qua. L'articolo di apertura riguarda i balneari fanesi. Una situazione di grande incertezza e nessuno investe nelle spiagge. Che cosa accade? che ancora incombe su tutti i concessionari di spiaggia lo spettro della Volkstein. Questa normativa europea che impone alle concessioni di andare a gara nonostante che coloro che le hanno gestite hanno investito molto qualificando le spiagge, realizzando strutture, aumentando e migliorando i servizi. Ebbene tutto questo potrebbe essere vanificato se alla fine del 2024, cioè dell'anno in corso, si attuasse veramente questa normativa europea. Il governo, dobbiamo dire, ha cercato sempre di rinviarla. Questa cosa ha cercato di giustirla. C'è stata anche una verifica per quanto riguarda quante concessioni libere, quante spiagge libere c'erano ancora in Italia. Questa cosa è stata fatta. Il risultato è che i due terzi delle spiagge sono ancora libere, ma questa indagine non è stata accolta dalla Unione Europea. E vuole che sia fatta zona per zona. E allora le cose potrebbero cambiare. I concessionari di spiaggia fanesi sperano che il tutto venga rinviato al 2033, però insomma c'è una grande preoccupazione. Ebbene la primavera non è molto lontana, quindi si tratta di organizzare la prossima stagione balneare, ma chi si azzarda di investire ancora soldi in una concessione che potrebbe svanire nel giro di pochi mesi. E questo ovviamente non depone per la qualità dell'offerta turistica fanese. Speriamo che le cose si risolvano e ovviamente tutti continuino a mantenere alta la qualità stessa appunto dell'offerta balneare, che è sempre la prima offerta turistica del nostro territorio, anche se poi noi siamo ricchi di arte, cultura, ambiente, storia, insomma tutto quello che viene successivamente. Un articolo di spalla riguarda ancora la situazione, il fatto denunciato dal dirigente del liceo Nolfi Apolloni, Samuele Giombi, per quanto riguarda la persecuzione che ha avuto lui e alcuni membri della sua famiglia sui siti di internet, sui siti social. Minacce a Giombi, falla nel sistema. Ebbene, Giombi ha avuto la solidarietà del sindaco Massimo Seri, il quale ha detto grave che dopo la denuncia di Giombi le autorità competenti non siano riuscite ad accedere ai dati utili a identificare il mittente dei messaggi. È una falla nel sistema, veramente occorre rendere più incisive le indagini e far sì che magari coloro che gestiscono i social siano costretti a rendere note le firme di coloro che pongono i messaggi appunto sul web. E qua vediamo invece il caso delle ristoratorie, di cui abbiamo parlato, che non era conosciuto al fisco, un ristoratore evasore totale. Scoperto dalla finanza, un locale aperto da cinque anni in zona mare a Fano, aveva anche quattro lavoratori in nero. Circonomia, si pensa alla seconda edizione, fattori plaude al successo, organizzatori soddisfatti dell'accoglienza fanese. Anche qui una settimana molto molto intensa per quanto riguarda incontri e tante altre iniziative che sono state fatte con questo nuovo festival di carattere ambientale. E poi per quanto riguarda la nuova Sala della Cultura, che è stata inaugurata nei giorni scorsi nel Palazzo Nolfi in Via Arco d'Augusto, è stato varato il regolamento. Diamo un'occhiata a questo regolamento perché interessa un po' tutte le associazioni che vogliono organizzare degli incontri. Se ne potrà disporre tutti i giorni, inclusa la domenica. Ma il richiedente non potrà comunque fruirne più di quattro volte e per non più di dodici ore al mese. Privilegiate le iniziative culturali e in particolare quelle dedicate alla promozione sociale e all'immagine della città. Sono escluse però tutte quelle cose di carattere privato, feste private e cose del genere. Insomma, devono essere iniziative di interesse pubblico. Per ottenere la disponibilità della Sala occorre presentare domanda all'Ufficio Cultura almeno dieci giorni prima, rientrando comunque nell'arco temporale dei tre mesi precedenti. Fatta salva poi la decisione dell'Ufficio, in caso di concomitanze, di anteporre la domanda depositata prima. Chi prima arriva ben alloggia. I secondi dovranno invece aspettare. Passiamo ora... anzi, restiamo a Fano. Restiamo a Fano perché nella pagina del Val Metauro c'è una notizia che riguarda Fano. In modo particolare riguarda l'accesso alle spiagge dell'Arzilla, sotto il ponte stradale, il ponte ferroviario. Le pessime condizioni di questo sottopasso. Siamo nella zona de Tano, per intenderci. Ebbene, questo sottopasso spesso è allagato dalle piene dell'Arzilla, comunque in condizioni precarie. E grazie ad una interrogazione del consigliere regionale Biancani, sembra che la regione si muova per cercare, per sistemare il manto stradale entro la prossima estate. E quindi c'è la soddisfazione di Biancani, che però, insomma, vigila perché questa cosa poi sia fatta veramente. Un consiglio monomatico sull'ospedale di comunità viene richiesto a Fossombrone, da parte di Gloria May, che è una consigliera comunale di progetto comune, che ha chiesto al sindaco una convocazione monotematica per parlare di tutte le criticità che sono state rilevate a Fossombrone, soprattutto la reiterata assenza del medico dell'unità 118 della Potes nella prima settimana del mese di marzo, nel mese di marzo questo, successiva alle recenti dimissioni del dottor Pecchi e al grave e triste evento luttuoso di dicembre che ha coinvolto l'equipaggio 1408 che ha colpito profondamente la città di Fossombrone. È il grande incidente stradale che si è verificato appunto con una ambulanza della Croce Rossa. A Mondolfo, chiostro di Sant'Agostino, stop a ordinanze in serie. Lucchetti, che è l'ex assessore Massimiliano Lucchetti, invita l'amministrazione comunale a non imputare tutto quanto il sistema di ripristino, di restauro, di consolidamento ai privati perché altrimenti questi poi alla fine scoppiano e non riescono ad ottemperare a tutte le incombenze che vengono loro attribuite. E poi vediamo un episodio di cronaca a fondo pagina. Un autista di Marotta palpeggia le volontarie della Croce Rossa. Ciò è avvenuto in due casi. Secondo l'accusa, che si è appunto formalizzata di fronte al Tribunale, un 62enne di Marotta, di cui vengono rese note soltanto le iniziali ML, autista dei mezzi, avrebbe allungato le mani su una ragazza spagnola di 18 anni e di una polacca di 29. Tra gli episodi contestati, ai danni della spagnola durante un trasporto, le carezze ai capelli, alle braccia, oltre alle avance e poi le mani all'interno delle cosce. Insomma, dopo lì le cose stavano facendo più pericolose. In un'altra circostanza, le mani sui glutei, fino all'episodio in cui avrebbe attinto alle spalle poggiandole il membro sui glutei. Quindi veramente una cosa che è una persecuzione di carattere sessuale. E quindi l'uomo è stato deferito al Tribunale ed è stata una condanna a un anno e sei mesi. E con questa notizia noi abbiamo terminato la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno, le ore 20 e 30, Nolletg di Fano TV, Occhio alla Notizia e per domani a una nuova rassegna stampa. Grazie per l'ascolto e a risentirci.